Con questa risoluzione del Partito Democratico abbiamo chiesto tante cose al Governo Marsilio. In primis di prendere posizione nella conferenza delle Regioni perché ci siano i criteri attuativi del Decreto Legislativo 199 del 2021. Aspettiamo da due anni. Le Regioni non sanno con quale criterio possono individuare le aree idonee e le aree non idonee per questi campi fotovoltaici. Poi chiediamo naturalmente alla Regione Abruzzo di prendere posizione, addivenendo alla richiesta del Comune di Loreto, della delocalizzazione della cabina primaria di Enel Distribuzione da Remartello di Loreto nella zona industriale. Ma chiediamo anche alla Regione Abruzzo di prendere ad esempio l'Emilia-Romagna che nell'emore dell'attuazione di questo famoso Decreto Legislativo ha dato attuazione all'individuazione delle aree idonee e non idonee e l'ha fatto con un provvedimento di giunta recepito con una proposta di legge. Tra l'altro non impugnata. La Regione Abruzzo segue questo esempio.